Era andato a cercare funghi nella zona di Passo del Trebbio, tra Bagni di Lucca e Villa Basilica, l'uomo di 87 anni, residente a Gragnano, che è stato trovato morto in una scarpata. Si tratta del terzo fungaiolo, deceduto in Toscana nell'arco di appena tre giorni. Poche ore prima, in Val di Nievole, infatti, un settantenne era precipitato in una canalone davanti agli occhi del cognato, mentre sull'appennino lucchese, a capanne di Ligiana, invece in fondo ad un dirupo, era stato ritrovato senza vita un 84enne. Nel corso dell'ultima settimana sono stati molti anche i casi di cercatori di funghi dispersi tra i boschi. Un uomo è stato ritrovato ad Aulla dai vigili del fuoco, che lo hanno salvato utilizzando tecniche specifiche di recupero, per poi consegnarlo ai sanitari del 118. Vicino a Bagni di Lucca, invece, due fungaioli sono stati ritrovati in un casolare abbandonato dopo ore di ricerche. Un fenomeno allarmante, visto il numero dei casi, anche gravi, che sta crescendo ogni giorno, in particolare tra i più anziani.